Ciao amiche, buon pomeriggio, come va? Come state? Spero tutto bene! Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Amiche mie, oggi abbiamo un unbox Amazon! Non sappiamo ancora cosa c'è dentro, ma lo intuiamo perché circa circa sappiamo cosa doveva arrivare oggi e siccome la regi non è riuscita a mettere le sue grinfiette sui pacchetti, ma li ho trovati io fuori dalla porta oggi superiamo di gran lunga tutto quello che c'è già negli scatoloni, aperto dalla regista e arrivato, nascosto da lei arrivato nelle scorse settimane e facciamo noi un experience di apertura pacco, è quello che c'è, c'è Ok? Sì Facciamo così E se è rotto, mi metto a piangere Non penso però che siano cose che si possono rompere No, non penso E voi direte, ma che rossetto grande che ha ordinato la Lalix Dan dan dan, grandissimo! Forse non è un rossetto qui, e qui non lo so, vediamo un po' Io direi che le apriamo e vediamo cosa c'è in questi pacchi Ordinati da Amazon, qua mi hanno messo pure l'etichetta di Amazon Prime E qua no, però tutto Prime Tutto Prime era Non ci stava il nastro Non ci stava il nastro per farlo bello E quindi io lo voglio rosa il nastro adesivo di Amazon Prime Si può? Si può Dovresti poterlo personalizzare Si, mi picchiano i corrieri, mi picchiano ancora un po' Allora, io direi che lo apriamo perché sono preoccupata Come sempre, come con tutti i pacchi Io, amiche mie, preoccupata Ma aspettate che appoggio un attimo E prima dobbiamo riflettere un secondo su una cosa Vi ringrazio tantissimo Mi avete detto che scrivo benissimo Grazie Io disegno un po' Però Diciamo Che quella brava, brava, brava Per, diciamo Come si può dire? Ecco, io alla sua età Anche se voi non sapete la sua età ancora Ma la saprete a brevissimo Allora, io alla sua età non ero così brava Ovviamente C'è no Di regista c'è una sola Lei è bravissima a disegnare Ma brava, brava, brava E non lo dico perché sono la mamma della regista Ma lo dicono gli altri E ha questa calligrafia bellissima Che nemmeno io ho capito come fa Hai fatto un corso che mi ha sfuggito? Hai guardato qualche tutorial? No, avevo guardato per fare Come si chiama? Lettering? Il lettering, sì, quello con le brush pen Però la calligrafia quella normale no Cioè, l'ho inventato io il mio alfabeto Ah sì? Io, amiche mie, posso dirvi una cosa? Una gallina scrive meglio di me Ho una scrittura orrenda Orrenda Bruttissima la mia scrittura Tant'è che Per il primo bigliettino Spoiler Avevo scritto io il biglietto E è passata la regista così Che mi ha visto uno che sono lenta in difficoltà Ha visto che era un po' insoddisfatta della scrittura E mi ha guardato così il bigliettino Oh no Eh sì, ha fatto questa faccia E mi ha detto Vuoi che te lo scrivo io? E io che non volevo accollarle, diciamo, un peso Gli ho detto Sì, per favore me lo scrivi tu Che tu scrivi benissimo Cioè, è andata così la faccenda Se lei un giorno non ha voglia e non ce lo può scrivere Lo scriverò io Ma sono due parole Infatti sono tutte Diciamo che a lei piace proprio scrivere Questa scrittura così fluenta, bella E le piace un sacco scrivere A me non piace tanto scrivere Non devo dire la verità E infatti scrivo malissimo Tant'è che io disegno tutto Tranne le scritte Odio fare le scritte nella maglietta E secondo voi Quando avevo la partita IVA E disegnavo Come diciamo amiche Io avevo questa partita IVA Che disegnavo sulle magliette E quindi comunque Diciamo Facevo pagare questi disegni Perché poi vendevo queste magliette Con i miei disegni E però sono stata aperta Con la partita IVA Pochissimi mesi Perché poi è arrivato il covid È cambiata la transazione Io comunque il lavoro Già ce l'ho Perché sapete che comunque Sono un tecnico informatico Faccio un altro lavoro E ho l'obby Ho quest'obby appunto Che mi piace disegnare Che poi è diventato Preferisco stare qua con voi A parlare di make up E disegno pochissimo ultimamente E praticamente Cosa volevo dire Stavo prendendo il filo da sola E qua Insomma avevo questa partita IVA Cosa mi chiedevano più di tutto? Le scritte Le scritte infatti Ed era una cosa proprio Ne ho fatte Neanche tanto brutte Così così Un po' a fortuna Perché poi io sono pigra Non centro prima Io disegno Digetto sul momento Non misuro nulla Se si vuole centrare Se si centra E se no così è E però per fortuna Ti ricordi che Sempre centrati Sempre centrati Sia i disegni Che le scritte Però perché ho l'occhio E anche una fetta di sedere E quindi io veramente Le scritte non ce la posso fare Se uno capiterà che la reggi Non può farci la scritta Vedrete la mia scrittura da gallina Qualche mattina Ma non scrivi male Secondo me Io l'ho vista la tua scrittura Ma non scrivi male Mi piace Mi sa bruttissima La mia scrittura Una gallina una volta Mi ha guardato E si è messa a ridere Ha visto la mia scrittura E ha riso Ho 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 cocoda Così Cocoda Cocoda Mia sorella scrive meglio E io le ho detto C'hai ragione Amica Cocorita Amica Gallina Quello che vuoi Qualsiasi sia il pennuto Scrive meglio di me Non ce n'è Fino a qua Secondo me è verissima questa cosa Quindi quando mi ha detto La reggissa Che i bigliettini Ce li scriveva lei Io praticamente Decido la frase La scrivo Su un tacquinetto Oppure gliela dico Semplicemente a voce Perché me la ricordo Tanto è corta E lei ce la scrive Sul foglietto E quindi la scrittura Della reggi Non è la mia Non c'è neanche pensato A dirvelo sinceramente Perché Boh Era sì Diciamo che era la frase La cosa Non più importante Però Il senso era nella frase Mai avrei pensato Che notavate Sì che la scrittura Era carina Quindi la regista Penso che Vi ringrazia di questo Consiglio Eh sì Perché anche lei Non ha pensato Insomma Di dirvelo Però voi sapevate già Che la regista Comunque disegna Disegna Non sapevate che scrive Anche molto bene Però disegna molto bene Infatti in qualche short Nella playlist Dei disegni Ci sono anche dei disegni Miei Ma anche dei disegni Della regista E chiedevano Se abbiamo voglia Un giorno di far vedere Dei disegni Sì direi di sì Io ho disegni Solo sulla stoffa Perché io amo Disegnare Dipingere Animali Coccolosi Più che altro Oppure Proprio al contrario O lupi che ringhiano Per esempio Sono passata Dal lupo che ringhia Al gattino Coccoloso Quindi però Tutti sulle magliette Disegnate A mano libera Col pennello Con i decacolor Se vi va Io vi posso far vedere Tutti Quelli che ho Che poi alla fine Non ho venduto Perché quelli Li ho tenuti Diciamo per ricordo E ho questi disegni Alcuni invece Avevo le foto Ve li avevo messi in short Perché li avevo venduti Quando avevo la partita IVA Quindi ancora tre anni fa Oppure qualcuno L'ho regalato A qualche compleanno Alle amiche E poi basta Non ho più disegnato Diciamo Dopo la partita IVA Non ho più disegnato Io qualcuno Che ho appunto Qua cosa? Adesso è da un po' Che non disegno più Sì Ho disegnato qualcuno Qua a casa L'estate scorsa Per me Mi ero disegnata Due magliette Mi pare Creamy e Renzi la strega Mi ero disegnata Che poi il colore Era già diventato vecchio E cos'è successo? Anche se l'abbiamo stirato bene Le bottigliette forse Erano un po' vecchie Se n'è andato un po' via Se n'è andato un po' via Allora mi sono un po' scocciata Che si è un po' tolto il disegno Perché poi ci metti tanto Perché comunque Eh sì Con quei colori Con quei colori Se fate strato 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 Che dovete sfumare Con i decca sulla stoffa Ma ci potete mettere anche Boh Facciamo ipotesi Dalle tre ore Alle tre E tre ore Troppo Non fa niente Sì Per dire uno schizzo Ciao No vabbè Ciao in tre ore Ma dico Un disegnino piccolo Tre ore Fino anche alle 30 ore Di disegno Per un disegno complesso Sfumato Con tanti strati Come fosse un quadro Ecco Esatto Fate conto Fosse un quadro Però sulla stoffa E invece la regista Ne ha anche tanti su carta Perché a lei piace E poi secondo me Anche dato dall'età Forse Non si fida tanto Sulla stoffa E ne fa ancora Tanti sulla carta Però anche tu hai fatto Uno sulla stoffa Sì Ne ho fatto uno sulla stoffa Ed è venuto bellissimo E quelli sulla carta Sono meravigliosi Perché ha una dote Di sfumare molto Anche lei cintura Nera di sfumatura Sì E quindi Se vi va Anche la regista Può farvi vedere Qualche disegno Qualcuno dei suoi disegni Non vedete lei Ma vedete Qualche suo disegno Intanto Apriamo Che dici Allora Prima questo grande O prima questo piccino picciolo Come vuoi Lo so Forse è meglio Prima quello grande Quello grande Allora Prendo la nostra amica Piccola carotina Cutterina E tagliamo lo scocciottino E' super utile Per questa roba qua Secondo me Perché Se no con la forbicina Andavo sempre male E poi comunque taglia Cioè è molto bene la carta Ah eh sì Fai in un attimo Sì sì E' super precisa Per quello sì E tu attenta A non farmi male Perché io è capace Anche con quella Che mi faccio male Allora Dan 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 Experience Prima voi E poi io Sperando che non cada nulla Eccoci qua Allora Così piccolo Che carini Io che nella mia testa Oh Amica Pensavo fosse una scatola Grandissima Eh Ma ce ne saranno poche 50 50 50 perle Ma sono piccoli Quanti pensavo Ma io pensavo Che fossero grandi Così Aiuto Allora Vi faccio vedere Cosa abbiamo comprato Questa è già Aperta Aperta Ok Allora Questa qui Amiche Sono borracette Per l'acqua Piccoline Per quando andiamo A fare la passeggiata Ad estate Ognuna la mette Nel suo zainetto Perché vi dico La sincera verità Avevamo qualche borracetta L'anno scorso Ma si sono rotte tutte Allora Quest'anno ho detto Le riprendo E le prendo Diciamo Uguali per tutti E sono state scelte Dalla regista Che Per giorni e giorni Ha guardato Fino a ponderare Com'è la storia Ne avevi già una Tu di queste No Ne avevo presa una Simile Per me Per scuola Che però Era più grande Poi l'avevi presa anche tu L'ho copiata Per andare al lavoro Ti è piaciuta E hai detto che erano utili Ma prese più piccole Infatti Piccole però Non ne fanno tante Quindi per quello Ci ho messo un po' Perché E dopo che ha ponderato Per giorni e giorni La nostra dolcissima regista Io Amiche Vedete Qua ne ho una Che sto già utilizzando Lavata Che l'ho presa Tipo Cinque giorni fa Questa L'ho provata Ho visto che andava molto bene E ne ho prese altre quattro E cosa è successo Quando Praticamente Me l'ha vista il marito timido Mi fa Ah Ce l'ho anch'io Per andare in palestra E noi Ma sì Ma se ce lo dicevi prima È giorni che cercavamo Una Una borraccetta Diciamo Come si deve Perché poi Tipo abbiamo letto Che tante belle caratteristiche No? Questa Che è BPA free Food save Ve lo inquadriamo È Yon Otto O come Yon Infinito Ah non lo so Perché il marito timido Ha detto Yon Otto Io che sono una sognatrice Dico Yon Infinito È vero Più che altro perché non ha tanto la forma di un Otto Non so se è un Otto stilizzato O se è un Infinito Ah infatti Molto bella Secondo me Ci sono C'è anche la quantità dell'acqua Sembra quasi un biberon Per bimbo piccolo È molto carina Secondo me Allora Adesso vi spiego Io comprirei miliardi di borracciate Perché secondo me È utile Non avere tutta questa plastica in giro No? Sì Sicuramente Perché comunque Le bottigliette di acqua Non è che poi la puoi riempire Noi adesso qua sulle montagne In Veneto Beviamo l'acqua anche dal rubinetto Che buona Se no abbiamo proprio la fonte Una sopra casa E una sotto casa Perché noi Siamo comunque immersi nel verde Abbiamo proprio le fonti di acqua Quindi o andiamo a riempirla Proprio a un passo da casa Uno sopra E uno è stato Come si chiama? La fonte Rubinetto aperto di acqua Sì sì Da bere Buonissima Che è direttamente collegato all'assorgente Quindi c'è sempre diciamo L'acqua fresca Che corre Quindi o la prendiamo là O dal rubinetto Più o meno è uguale Qua da noi E quindi non ha senso avere bottigliette di plastica E non ne abbiamo mai avute Abbiamo sempre avuto delle borracciate Però non erano valide Quelle dell'anno scorso Per quando andiamo a fare le passeggiatine Qua vicino a casa E quindi le ho ricomprate Prima ne ho provato una Va molto bene Ne ho preso altre Questa è per L'aiuto regista Questa è per La regista Questa Per la Nonix E questa È per l'opinionista Ognuno ha scelto il suo colore Tranne la Nonix Che non lo sa ancora Se poi ecco Non la vuole rosa Ne ne compriamo un'altra Non c'è problema Allora questa la poggio qua Ne ne compreremo un'altra Allora Questa è uguale Ma quella non c'è scusa Secondo te è arancione O è un rosa particolarmente fluo acceso Diceva rossa Adesso lo senti L'opinionista Che la voleva rossa Però a lui gli piace Anche l'arancione Il giallo E il rosso Gli piacciono tantissimo Quindi sarà contento Vanno ovviamente lavate Prima dell'utilizzo Noi le abbiamo lavate Con un po' di Acqua calda E un po' di sapone Per i piatti E' molto carina Vi faccio vedere La mia Che l'ho già Quindi ne abbiamo Una blu Un'arancione E due rosa E il marito timido Non ha deciso Per la passeggiata Il colore Non gliel'ho ancora comprata E quindi Vediamo Perché mi ha detto Ce l'ho per la palestra Doppia non mi serve Tanto ce l'ha sempre Comunque appoggiata Qua quella della palestra Quindi probabilmente Lui si porterà quella Che poi cose in più Non ha senso prenderne Ha questo attacchino qua Che è molto comodo Che lo potete attaccare Allo zaino Oppure tenerlo Anche se avete le mani Occupate Semplicemente con un dito Qua si apre a scorrimento Ma forse Così E qua c'è tipo Un antigoccia Ed acqua il ciuccetto Come fossi tipo Non lo so Un cricetto No? Così Buona Buona Acqua E acqua E acqua Amica E acqua E qua c'è anche La chiusura di sicurezza Così non esce Siete sicuri Che non si apre Per sbaglio Io la metto anche In borsetta Nello zainetto Devo dire Comoda La chicca Diciamo come novità Ah questa Oh no È diversa Non va in su Questa È montata al contrario Strano Oh yeah Secondo me è montata al contrario Il gancio Ma non ha il buco qua Perché c'è È diversa dalle altre E allora Eh no E allora È diversa Magari ce ne erano Di fatte diverse Oh no E chi lo sente adesso Che lui è l'unico Che ce l'ha Diversa Secondo me Se non glielo fai notare Non se ne accorgi Io non me ne ero neanche accorta Furba la regista Cioè nel senso Io non me ne raccomi Però è più scomodo Che non si Boh Perché può essere anche Che ci hanno mandato Un'altra Quella vecchia Perché poi c'era quella Oh no 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 perché sono Perché erano nere qua Il modello vecchio Era nero qua Ma poi Vedi fatto anche Diversa lì C'è il motivo Sì Ah è vero È l'unica Allora sarà fatta così Dai La chicca Come novità Diciamo che io Non ho mai provato Ma ho provato Ed è anche diversa lì Lo scatto per aprire La borraccia È vero È tutta Adesso che l'abbiamo guardata È tutta diversa E come si apre quella Boh Allora Si tira giù E poi premi Eh premi Ok È diversa Vabbè L'importante è che è contento Poi sale una borraccia Non è che sì È chissà che E le abbiamo pagate Dai 10 11 Dipende dal colore Ai 12,90 euro Mi pare Quella rosa Queste Me le ha consigliate La mia amica Anna Le mando un bacino Grande grande Praticamente Sono delle perle Di ceramica Adesso le apriamo E sono piccole Io pensavo fossero grandi Guardate Eccole qua Queste perline qua Di ceramica Chissà ma io me le ero Immaginate più grandi Perché non le ho viste Queste sì Mi ha detto La mia amica Che si devono Sono 50 Bollire E poi Dopo bollite Si può C'è tutto il procedimento Di come si deve fare Nel sito Non so dove Forse anche qua Perfetto Non so come devo fare Chiederò a lei E dice Per purificare L'acqua del rubinetto L'acqua Quando fai il caffè Insomma Io ho intenzione Di metterne Mi ha detto Allora La mia amica Di metterne Tipo Sei dentro Alla borracetta Però questa è piccolina Quindi forse ne bastano Quattro Dipende Quanta acqua c'è Mi sembra che per mezzo litro Mi ha detto sei Quindi qua Forse quattro Quattro è cinquanta Quindi quattro Quattro di queste Dopo bollite E praticamente Come si dice Ma ogni volta le devi bollire No 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 Una volta sola Si Dice che durano tanto tempo Ci sono anche rosa Quelle rosa Hanno una vita Tra i 3 e i 6 mesi E invece Quelle bianche Fino ai 10 anni Cioè E come mai questa cosa È perché è un altro materiale E dice di borlirle 10 minuti Nel sito c'era scritto così Non sono ancora esperta Perché è la prima volta Che le compro E devo anch'io capire bene Come funziona E praticamente Se appunto Ho capito bene la storia Riduce i metalli pesanti Dell'acqua Il calcare E ne migliora il sapore Lo purifica un attimo Noi essendo anche In montagna No però Diciamo che io Non sono sempre qua a casa E quindi anche Quando la bevo Da un'altra parte Mi metto nella borraccetta Così sono sicura Perché a volte Ho proprio Seconda di dove la bevo Sapore di metallo E lo sento Perché sono abituata All'acqua buona Eh sì Magari dipende anche dai tubi Non lo so Lo potevano riempire Sì dipende anche dai tubi infatti Quindi ho intenzione Di provare questa cosa 19,90 euro 50 di queste Quindi è molto Le provo Amiche E poi vi dico Se sono rimasta contenta Se del gusto ho sentito Effettivamente Una differenza Vediamo Mi hanno detto Che male non fanno Ci credo Speriamo Speriamo Le provo Prima io E poi vi dico Come mi sento Aiuta Allora Riduce il deposito Di calcare Migliore il gusto Dell'acqua E Aiuter Dei microorganismi Favorabili Non lo so Cosa vuol dire Il francese Non lo so Aiuta Dove c'è scritto Che non lo vedo Niente La terza riga Perché le prime due riga Ce la posso fare E davanti c'è scritto Per purificare I microorganismi Cosa vuol dire Cioè i microorganismi Quello sì Favorisce Aiuta Non lo so Non lo so Io il francese Mi piace pure Ma con l'aria Mi sfugge Comunque 50 perle di ceramica M Per purificare Questo è facile Per purificare L'acqua del rubinetto Con una caraffa La macchinetta del caffè La lavastoviglie E La lavatrice Si possono mettere dentro Ne vanno 50 Mi pare O 30 C'è scritto nel sito Orrinco Si chiamano Ok Orrinco Ok Orrinco Ok Ok Lì dice tutte quante Le robe dette meglio Di come le sto dicendo io E c'era scritto anche Ma dentro alla lavatrice E alla lavastoviglie Non lo so Chiederò al marito Ci sono anche gradi Cioè comunque Sbattocchiano E riducendo Il calcare Prolungano La vita Dell'elettrodomestico C'era scritto così Ok Si Non è che ce lo dobbiamo bere L'acqua della lavatrice No 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 infatti Però migliora E allunga La vita dell'elettrodomestico Che di questi tempi Con quello che costano le cose Non ci fa neanche schifo E queste quanto le avrei pagate Più o meno ti ricordi 19 euro e 90 Ah si scusa scusa E quindi non lo so Adesso valuto Perché non costano poco Intanto le volevo mettere Nella caraffina E meno si A provare Infatti E vediamo Quindi questo è l'acquisto Che c'era nello scatolone Grande Quattro borracce Più queste sferette E qua invece abbiamo una cosina Make up skin care Cosa sarà Tan 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 Apriamo Vai vai E Voila Al contrario Revolution Ultimate pigment base Quindi è un Primer Occhi Giusto? Occhi? Ho ordinato giusto? Sì ho occhi penso Sì sì E il shadow primer Ok Quindi bene L'ho ordinato su Amazon Perché volevo anche provare qualcosa di alternativo a quello che uso di solito di Kiko Ed è molto grande Questo è più grande di quello di Kiko e costa meno Quindi ho detto proviamo dai 15 ml Non me lo ricordo quanto Mi pare 5,90 euro L'ho pagato Ed è chiaro C'erano diverse colorazioni Vediamo un attimo che colore è E chiudo subito Perché stanno uscendo i soldi Quello di Kiko non è finito Ma insomma Vediamo com'è E' un correttore però Non è troppo chiaro E beh ma tanto L'importante è che sia chiaro Per annullare il colore Però mi viene da dire Sì ok Ho un primer Speriamo che I primer di solito non sono un po' meno comprenti O no no? No Vedevano annullare il colore della palpebra Quindi dici meglio più coprente Sì 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 Me lo impulisco Che mi dà fastidio Me lo immaginavo sinceramente Un po' più bianco Infatti ho preso il più chiaro C'erano anche più scuri Sarà un po' sì A seconda della carnagione Sapete che mi piace tanto chiaro Perché Se poi lo metto bianco L'ombretto Non voglio che non si capisca bene Che è bianco Ok ok E quindi più chiaro è Meglio è Secondo me il primer Occhi Bene quindi oggi abbiamo Un pezzettino Di No è make up Non è skin care Make up Perché è la base Per mettere l'ombretto sopra Quindi Questo piccolo tesorino Di make up E Tante borracine Sono semplici Non sono computerizzate Adesso si usano le borracce Con le computerizzate Che ti dicono Che ora devi bere Te lo ricordano Però secondo me Alla fine queste non sono male Le provo Poi voi amiche mie Che borracette utilizzate D'estate Quando andate in giro E anche d'inverno Perché poi alla fine Io la uso tutto l'anno Dico la verità La borraccia Però Durante l'anno Posso utilizzarla Anche se ne so Se sono al lavoro Così Anche Più grande No Se ho uno zaino Per esempio del pc Posso mettere anche Una borraccia grande Di lato Invece Per le passeggiatine Con la borsetta Leggera Le utilizzo piccoline E queste Come grandezza Mi sembrano Molto molto comode Perché sono proprio Piccoline Giuste Forse l'avrei voluta Più piccola Però col senno di poi Più piccola Era troppo piccola Non ci stava niente Perché anche questa Mi accorgo Che è subito Vuota Infatti questa La sto utilizzando Adesso Anche per bere Qua in casa Tipo io bevo un sacco Anche di notte Mi sveglio Ce l'ho di fianco al letto E bevo con questa Senza andare avanti Indietro col bicchiere Si Di notte È una scocciatura Quindi Quella che utilizzerò A fare la passeggiata Ce l'ho anche qua La uso anche di notte E quindi Contenta Sono molto contenta Fatemi sapere voi Amiche mie Che borracciate Utilizzate Come vi trovate Con l'utilizzo Della borraccia Ci sono anche quelle Che sopra puoi mettere Tipo una roba Aromatizzata Che così Vi Prendete in giro Da sole Sentite l'odore Della fragola E vi sembra Che state bevendo fragola Io non lo so Già mi prendono in giro Gli altri Quando No in giro Ma pure da sole Mi devo prendere in giro Non lo so Se me la sento No ma perché così Ti invogli a bere Di più l'acqua Io bevo già tantissimo Eh ma alcuni Non la bevono Perché non sa di niente Non piace l'acqua Ah invece io Un cammello Amiche In un'altra vita Sì sì tu bevi tantissimo Tantissimo Io bevo anche Troppo Quattro litri di acqua Ma da sempre E poi non sudo E allora dove li metti Tu la metti tutta quella Eh sì Però forse ho bisogno Io Mi aveva detto così il dottore Comunque di bere Bere tanto Ma direbbero massimo Due litri al giorno Ne bovo io Ecco te lo faccio Muoio di sette Io ne bevo anche quattro Sì Ne bevo due solo di mattina Anche di più Eh sì Questa Me la son bevuta adesso Praticamente era piena Ed è 3,50 E c'ho sette Ma da sempre Non è che sto male adesso Sono proprio nata così Perché se vi succede Amiche mie Io avevo anche controllato Perché poi c'è chi mi ha detto Eh no Non va bene Allora Tipo non si fa Ho googolato E mi è venuto fuori Di tutto Sì mai googolare Tutte le patologie Di questo mondo Ti vengono fuori un sacco di fisime Eh però poi ho detto Ti viene l'ansia Ne ho parlato anche col mio dottore E mi ha detto Sì ma se tu sei sempre stata così Stai tranquilla Poi mi son controllata Abbiamo visto che va tutto bene Tutto a posto Cioè Perché magari Dopo magari può essere diabete Sì sì Tante cose così Insomma anche tante altre Non solo quello Però sì Io sono fatta così Ho bisogno di bere Quindi bevo tantissimo Anzi ho l'ansia di non avere l'acqua Eh sì E quindi Non so se si era visto Borraccette 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 Ovunque amiche mie E niente Oggi abbiamo un unbox Particolarmente diverso dal solito Però secondo me è carino Utile anche avere qualcosa di diverso Abbiamo comunque una cosettina Make up E io aspetto di sapere Tutti i vostri pareri Anche su questo primer di Revolution Voi l'avete mai utilizzato La colorazione si chiama Light Fatemi sapere Se l'avete già utilizzato A cosa ne pensate Lo proveremo assieme Nei prossimi video Make up della mattina Tu vuoi aggiungere qualcosina? Ok Allora amiche mie Io vi ringrazio Per aver aperto questo video Vi ricordo Se vi va Di condividere sempre il video Con le vostre amiche Di scrivere il canale Se non siete ancora iscritte L'iscrizione è gratuita E come dico sempre io Ci era mancai A tragoza aburo Se vi va lasciateci un pollicino in su Così capiremo che questo video vi è piaciuto E commentate con L'immoji della gocciolina dell'acqua Per esempio Che ci sta un sacco bene Secondo me oggi Perché la borracina Non so se c'è come immoji E scrivendoci e scrivendoci tutto quello che volete scriverci su questo unbox Un po' estivo Perché l'acqua d'estate Tanta sette amiche Qua è scoppiata l'estate È un caldo Terribile Per due o tre giorni Poi tornerà all'inverno Sicuro Infatti Un sole Allucinante Che quando avevamo le ferie di Pasqua E potevamo uscire Pioveva Il tempo Piaña il tempo Adesso che non possiamo uscire Che siamo al lavoro Un sole che spacca le pietre Sette soli Ma va bene È così Amiche mie Cosa ci volete fare? Ci sentiamo come sempre nei commenti Fatemi sapere tutto quello che volete Io vi mando come sempre un bacio Grande 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 E ci vediamo nel prossimo video Ciao amiche Buona serata